Doppia missione romana per il sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano, il primo cittadino è stato infatti al Ministero dell'Interno, assieme all'assessore di Trampani, sul tappeto le questione dei precari e del dissesto dell'Inter. Ancora icchi del dopo elezioni politiche per la nuova senatrice del PD Menerina Padua, il partito si è accontentato del pareggio e sul futuro parla di Matteo Renzi come di una grande risorsa per il partito. Intitolata all'ex assessore Pippo Mascolino, la nuova sede comunale di protezione civile a Viettoria in via Venusti, davanti a familiari, amici e colleghi, la scopertura della targa che da ieri porta il suo nome. La regione Sicilia dice sì all'istituto alberghiero a Vittorio, una buona notizia che però farà contraltare alla pressoché sicura perdita dell'autonomia al liceo scientifico Cannizzaro e Classico. Normigieniche troppo restrittive a Ragusa per gli operatori della zootecnia, lanciare allarme Laras che parla di imprenditori lasciati da soli e gli elevatori ragusani tornano così sul piede di guerra. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia, lo avete sentito già dai titoli in apertura, ci occuperiamo di questa nuova doppia riunione romana per il sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano, si può parlare in questo caso di doppia missione, il primo cittadino infatti è stato oggi al Ministero dell'Interno insieme all'assessore al bilancio di Trapani, sul tappeto le questioni dei precari e del dissesto. Il futuro dei precari comunali e il dissesto finanziario dell'ente di Piazza Fontediana sono state le due tematiche trattate stamani a Roma dal sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano e dall'assessore al bilancio Dante di Trapani nel corso del colloquio con i funzionali del Ministero dell'Interno. Per il primo cittadino comisano si è trattato di un incontro abbastanza positivo. All'incontro penso sia andato più che bene perché abbiamo deciso di poter rapportare tutto quanto riguardo al personale per la convinzione che si riunirà il giorno 12 gennaio. Ci sono alcuni atti che dobbiamo cercare di completare entro il batterì, sono degli atti di chiarimento in modo che tutto possa essere portato a tavola della convinzione. In quell'occasione chiederemo di essere ascoltati per sostenere le ragioni dei nostri precari e cercare di ottenere la disponibilità alla proroga o in caso contrario si perseguirà la strada di la formulazione di alcuni contratti terminati che potrebbero comunque conturciere lo stesso risultato. E' una cosa comunque che sarà valutata dalla Commissione stessa alla quale parteciperò personalmente io e probabilmente accompagnato anche dal concorso degli assessori. Voltiamo pagina ancora ecchi delle elezioni domeniche e lunedì delle politiche. Abbiamo parlato con la leo senatrice del PD Venerina Padua, ecco lì abbiamo fatto il punto. della situazione all'indomani appunto della tornata elettorale. C'è tanta carne sul fuoco del PD. I dati delle urne hanno consegnato al Paese un partito che soffre, che poteva stravincere le elezioni politiche e si è invece accontentato di un pareggio, che si trova oggi quindi costretto ad aprire il Movimento 5 Stelle, diventato il terzo partito, e a parlare ancora di un Berlusconi in grande spolvero. La neosenatrice Venerina Padua si dice felice per il suo risultato personale ma dispiaciuta per quello nazionale, fermo restando il rispetto per la volontà degli elettori che così hanno voluto esprimere la loro sofferenza. La senatrice si aspettava lo tsunami Grillo, al quale apre senza timori, molto meno la rinascita di Berlusconi. Afferma comunque che quella del PD è sempre una politica seria. Abbiamo fatto delle proposte pensate, discusse, condivise, senza grida, senza urla, senza falsi racconti, senza raccontare favole. Evidentemente non siamo stati sufficientemente capaci in questa comunicazione, ne prendiamo atto. Cercheremo di lavorare insieme con le persone che vorranno stare, soprattutto riferite al Movimento 5 Stelle. Per la neosenatrice c'è tanto su cui lavorare ma c'è anche tutto il desiderio di farlo. Innanzitutto una riforma elettorale, poi penso al falso in bilancio, penso alla legge contro la corruzione, penso soprattutto all'emergenza lavoro che è l'emergenza dell'emergenza. E sullo scottante tema delle primarie ribadisce sono state libere, democratiche e hanno confermato Bersani, leader, ma Renzi è una grande risorsa. Sarebbe stato diverso se ci fossero Renzi, non lo so, può darsi, può darsi anche, però questo è il risultato delle urde, allora le primarie fu questo, quindi noi con questo abbiamo lavorato e comunque ritengo che Renzi sia una risorsa importante, presente nel partito, certamente è una grande risorsa che sarà spesa, penso anche molto presto. E a proposito del Partito Democratico, il partito si interroga sul risultato ottenuto soprattutto e anche a livello provinciale, a eventi quotidiani, abbiamo parlato col segretario provinciale Salvo Zaggo. Il risultato elettorale in provincia di Ragusa per il Partito Democratico e per il centro-sinistra a eventi quotidiani il segretario provinciale Salvo Zaggo fa autoanalisi all'indomani del voto. Per il rappresentante del PD occorre adesso ripartire dal dialogo con gli attori del tessuto produttivo locale e dagli interventi a supporto delle fasce sociali più deboli e occorre inoltre strutturare il dialogo con la forza politica che si è affermata con grande successo su tutto il territorio nazionale e in provincia ha raggiunto oltre il 35% dei consensi, ovvero il Movimento 5 Stelle. Anche in Sicilia, anche in provincia di Ragusa hanno influito le dinamiche nazionali e quindi il risultato è come ha detto Bersani di moderata soddisfazione perché siamo arrivati primi, però insomma siamo arrivati primi ma non abbiamo vinto, non fosse altro perché non siamo stati messi dal voto nelle condizioni di poter governare. Però in Sicilia per esempio il Partito Democratico è stato sorpassato dal PDN nonostante il governo siciliano sia di centrosinistra. Ma se per questo anche in provincia di Ragusa, proprio per quello che dicevo, che non c'è una preponderanza delle dinamiche locali e delle ragioni territoriali, ma gioca il trend nazionale. Ma chi l'ha intercettato il voto del Partito Democratico o comunque del centrosinistra? Il Movimento 5 Stelle o il PDL perché Berlusconi riscendendo in capo ha fatto questa rimonta che forse non ci si è spettato. Ma in campo nazionale non c'è dubbio che noi siamo stati danneggiati dal Movimento 5 Stelle che ha intercettato da noi voti forse più che nel PDL. La provincia, come dire, il lavoro in qualche modo è già avviato, anche se è sotto traccia, a Modica, a Ragusa, a Comiso, a Racate, ci sono stati già degli approcci. È chiaro che la scadenza del 24 e 25 febbraio ha tenuto tutto sotto coperta. Intanto, rimaniamo in tema, questa sera Focus ha parlato anche il presidente di Azione Democratica, Francesco Aiello, secondo cui Bersani ha sbagliato nel portare avanti una campagna poco aggressiva. Dalle urne scie fuori in Italia divisa in tre tronconi, un centrosinistra che conquista una vittoria risicata, un Movimento 5 Stelle che stravince in quasi tutti i comuni rossi, un centrodestra guidato da Berlusconi che rinasce. Insomma, un paese che appare a rischio ingovernabilità, mentre gli insulti tra i diversi leader non mancano. A Focus nostra rubrica di approfondimento, il presidente di Azione Democratica, Francesco Aiello, nonché consigliere comunale, fa un'attenta analisi del voto. Per Aiello gli errori del centrosinistra sono diversi, a partire dalla campagna elettorale l'aver deciso lo scorso anno di non andare ad elezioni, permettendo a Berlusconi di tessere nuovamente la sua ragnatela. Si è dato il tempo alla ragnatela berlusconiana di fare le sue strategie molto furbe, molto intelligenti, perché da un lato ha messo avanti, ha dato il suo appoggio a Monti per ritirare la mano dell'appoggio e poi scatenarsi in campagna elettorale come un giovane leggiadero che viene così, che non c'entra niente, non c'entrato niente e quindi può ritirarsi dall'appoggio a Monti, lui è stato con Monti, ma ha fatto capire al paese, ha parlato, ha detto parole magiche, labbra catabra, imu, condono, ha usato queste cose e allora la gente ha mandato le lettere a casa, la gente è andata alla posta per chiedere l'imu, anche quelle che non le avevano pagate sono andate alla posta sempre. Bene, da un lato è accaduto questo, dall'altro lato la campagna elettorale, qui l'errore secondo me, a mio modesto avviso, perché io sono un politico di paese, sono un politico che ha l'esperienza del suo territorio, della Sicilia, a un certo punto si è determinata la condizione per una campagna elettorale che si muoveva verso la crisi, che guardava alla crisi da un lato con la rabbia protestataria di Grillo, dall'altro lato col populismo becero delle promesse di Berlusconi. Versani e invece a me talvolta è sembrato una specie di parroco di campagna, tranquillo, sereno, insomma, quelle ti aggredivano, aggredivano l'elettore, saltavano dentro i temi della crisi e tu sei stato troppo, troppo diciamo così, per bene da questo punto di vista. Ma con le politiche alle spalle adesso all'orizzonte parla invece di amministrative. A Ragusa intanto il Movimento Territorio sta presentando tre liste con 90 candidati a supporto e la candidatura sindaco di Giovanni Cosentini. Ad elezioni politiche ultimate in provincia di Ragusa si scaldano i motori per le amministrative di fine maggio. Nel versante Iperino sono tre i comuni chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale e alla scelta del sindaco. Dalla vicina Cate non giunge alcuna notizia. Giovanni Caruso chiude il suo secondo mandato e non ha ancora indicato un successore. La cittadina intanto esprime un deputato regionale grillino, il che fa pensare che il Movimento 5 Stelle avrà un proprio candidato. A Comiso Giuseppe Alfano conferma la sua ricandidatura, mentre il PD pare combattuto tra il giovane Fabio Fianchino e il veterano Salvo Zago. Anche qui i grillini non faranno mancare il proprio candidato a sindaco. A Ragusa intanto il PD è spaccato e ci sono forti dubbi sulla possibilità di riuscire a fare sintesi in vista dell'appuntamento elettorale, mentre sono sicuri e certi dei propri passi rappresentanti del Movimento Territorio. Confermate infatti la candidatura di Giovanni Cosentini, mentre ieri mattina sono state presentate le tre liste che appoggeranno la candidatura a sindaco di Cosentini e lo hanno fatto alla presenza del deputato regionale Nello di Pasquale. Cosentini ha ribadito la sua volontà di proseguire il lavoro svolto sotto l'amministrazione di Pasquale di cui era vice sindaco, oltre ad offrire delle novità attraverso un programma che sarà arricchito con i contributi dei cittadini. Tra i punti cardine del suo programma, riduzione della spesa degli sprechi e l'avvio di una nuova fase progettuale. Per Cosentini si riparte da Via Roma, Piazza San Giovanni, Piazza Libertà, Teatro Concordi e in generale tutto il centro storico. Tre le liste, 90 candidati che sosterranno la candidatura a primo cittadino di Cosentini. Si tratta di Territorio, Ragusa Domani e Ragusa Grande di Nuovo. Presentati anche i primi due assessori della squadra, che starà accanto a Giovanni Cosentini, e i tre consulenti a titolo gratuito. Si tratta di Gabriella Di Quattore e Antonio Agius Vella, mentre i consulenti a titolo gratuito sono Pinuccio Larosa al turismo, Carlotta Schinina alla cultura e Giovanni Occhepinti al sociale. La cronaca è un giovane rappresentante di commercio aggredito con una mazza da baseball da due persone con volto travisato e accaduta a scoglitti sull'episodio indagano i carabinieri. E' stato aggredito e colpito ripetutamente alle gambe e alle spalle con una mazza da baseball all'interno di un gazebo di frutta e verdura a scoglitti. Vittima un giovane di 34 anni di comiso residente a Vittoria. E' accaduto martedì scorso, alle ore 14 circa, mentre il giovane, un rappresentante di commercio che lavora per conto di una ditta di distribuzione di bevande ed acqua minerale con sedia d'acate, si trovava presso un gazebo di frutta e verdura nei pressi della frazione per la riscossione di una fattura. All'improvviso due sconosciuti con il volto travisato e armati di mazza da baseball hanno fatto irruzione all'interno del gazebo e dopo averlo colpito ripetutamente alle gambe e alle spalle, si sono impossessati della borsa da lavoro contenente diverse fatture, deplianne e listini prezzo per poi darsi alla fuga a piedi per le vie limitrofe. Il 34enne, dopo essere stato aggredito, si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi per le cure del caso. E' stato giudicato gueribile in dieci giorni salvo complicazioni. Della caduta è stata informata la locale stazione dei Carabinieri a cui il giovane ha raccontato lo spiacevole episodio. Nella borsa rubata, tra l'altro, non erano presenti soldi incontanti. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della stazione dei Carabinieri di Scoglietti al fine di dare un volto ai due sconosciuti dei primi riscontri, pare si tratti di due giovani dell'Est. Adesso torniamo sulla cerimonia di intitolazione della nuova sede comunale di protezione civile al compianto. Ex assessore Pippo Mascolino, amici, colleghi e parenti, presenta la scopertura della targa che da ieri porta il suo nome. Il 2 dicembre scorso un malore improvviso ha strappato alla vita Pippo Mascolino, vigile del fuoco, ex assessore della giunta ed esperto della protezione civile del sindaco Giuseppe Nicosia a Vittoria. Ieri sera colleghi, amici, familiari, amministratori e tantissimi semplici cittadini hanno voluto omaggiarne la memoria ritrovandosi alla cerimonia di intitolazione della sede comunale della protezione civile di Via Venusti nel quartiere Forcone. Quei locali per i quali tanto aveva lavorato e si era impegnato porteranno infatti da oggi il suo nome. Abbiamo voluto non soltanto dare una sede alla protezione civile comunale che da tempo la attendeva, farlo nel quartiere Forcone che per noi è un quartiere importantissimo, ma soprattutto poi abbiamo voluto intitolarla all'amico Eppe Mascolino. Era una spina nel fianco positiva per tutti i temi della protezione civile e della sicurezza della città. La presenza di tanti amici e di tante persone che sono venute sicuramente non per l'apertura della sede della protezione civile, ma proprio perché intitolata a Eppe Mascolino testimonia quello che noi tutti sappiamo, che era una grandissima brava persona. Dopo il ricordo affidato tra gli altri all'ingegnere Chiarina Corallo, responsabile provinciale del corpo di protezione civile e a Emanuele Carano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, è arrivata la benedizione di padre Beniamino Sacco e la commuzione latente si è fatta tangibile al momento della scopertura della targa da parte del sindaco e della vedova, prima dell'ingresso ufficiale nei locali che diventeranno subito operativi. Era il pilastro della famiglia, era uno molto attivo, ci manca tantissimo. Questa città ha fatto tanto, voleva fare tanto, c'era un uragano, lui era un uragano e non si arrendeva davanti a niente, a nulla, lo prenderemo come esempio sicuramente, i suoi figli, tutti quanti, meritava tutto questo, sicuramente, è stato grande Pippo, grande Pippo. Adesso una notizia che si aspettava da tempo, ovvero la regione Sicilia dice sì all'istituto alberghiere a Vittoria, adesso per il sindaco c'è da lavorare però per salvare il liceo scientifico e classico. Vittoria a metà per la città Iparina. Se da un lato si esulta per l'ok da parte della regione Sicilia per l'istituzione dell'alberghiero a Vittoria, dall'altro c'è l'amaro in bocca per la perdita dell'autonomia del liceo classico e scientifico, secondo quanto stabilito dal piano di dimensionamento regionale. E' stato il sindaco Giuseppe Nicosia ad annunciare che il Dipartimento pubblica istruzione della regione ha detto sì all'istituzione dell'alberghiero a Vittoria. La nascita di questo istituto era una richiesta avanzata diversi anni fa ed era stata reiterata dal sindaco sin dal suo insediamento nel 2006. L'istituzione dell'alberghiero è il frutto del lavoro tra il comune e il dirigente dell'istituto professionale Marconi. In questo modo gli oltre 100 alunni che attualmente frequentano l'alberghiero di Modica non saranno più costretti a spostarsi. Per il sindaco Nicosia questo comporterà un notevole risparmio di costi per le famiglie. Tra l'altro Vittoria potrà diventare meta di studenti provenienti dai centri vicini come Acate, Comiso e Santa Croce. Per non parlare delle prospettive turistiche che si apriranno con l'avvio del nuovo corso di studi. Con l'apertura dell'aeroporto di Comiso Vittoria avrà un'ulteriore carta da giocare e potrà offrire personale qualificato alle imprese che operano nel settore ricettivo. Adesso si attende l'avvio delle procedure per le iscrizioni. Dalla soddisfazione al rammarico però per la confermata perdita di autonomia del liceo scientifico e classico che a partire dal prossimo anno scolastico, secondo il piano di dimensionamento scolastico regionale, sarà accorpato al liceo Mazzini. Il primo cittadino chiede alla provincia di attivarsi per salvaguardare l'autonomia di una istituzione scolastica preziosa per la città. Anche il comune, dice il sindaco, per quanto non abbia competenza in materia di istituti secondari, farà il possibile per difendere il liceo scientifico e classico, istituzione storica e prestigiosa che ha formato generazioni di professionisti di altissimo livello e che non può perdere la propria identità. Partiamo da Pedalino, ci occupiamo della seduta ispettiva di ieri del Consiglio di Cisco Circoscrizione, assise che non si riuniva, pensate, da un anno e otto mesi. Non si riuniva da un anno e mezzo e i disagi non sono mancati nella seduta di ieri sera del Consiglio di Circoscrizione di Pedalino, a cominciare dall'aula che non era stata allestita per ospitare l'assise, mancavano le sedie, mancavano i tavoli, ma nonostante tutto i consiglieri sono riusciti a riunirsi e a discutere i punti all'ordine del giorno. Tre delle cinque interrogazioni in discussione sono state presentate dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Questo ci fa capire come anche il Presidente che lui ha la capacità di convocare un consiglio come non si è interessato per valorizzare questo organo interno al Comune e vediamo che si è stato molto disagio soprattutto perché non hanno allestito la sala consigliare avendo tutte le disposizioni per farle, non c'erano poter trovare tavole, c'è tutto ancora in disordine. Questo aveva creato dei disagi, ma noi con la nostra responsabilità civica che abbiamo nei confronti del Consiglio abbiamo cercato di concludere la seduta riunendoci in Consiglio. Entrando nel merito delle interrogazioni c'era una per quanto riguarda la manutenzione stradale, ci sono stati diversi disagi a causa dei lavori che sono durati per diversi mesi? Sì, i disagi sono stati molto evidenti alla collettività, ma però alla fine abbiamo trovato l'accordo che ci hanno risposto che per un beneficio del Paese siamo disposti anche a questo. Ma l'importante è che l'amministrazione non si dimentichi come ha fatto in questi anni della frazione di Pedalino. È stato un esempio proprio quando dopo un anno e otto mesi dovevamo fare il Consiglio non si sono premurati a fare pervenire tutto l'occorrente. Le altre due interrogazioni relative all'area Volga e come è andata? Allora, ci hanno promesso l'ennesima promessa che devono sistemare l'area verde perché è l'unica attrazione che abbiamo per i nostri bambini che è da un tre anni che a questa parte che non può essere utilizzata perché mancano le strutture, è in stato d'abbandono e così via. Norme igieniche troppo restrittive a Ragusa per gli allevatori a lanciare l'allarme LARAS che parla di imprenditori lasciati al loro destino. Allevatori sul piede di guerra a Ragusa a causa delle norme definite troppo restrittive e introdotte per fronteggiare l'inquinamento delle sorgenti Scribano Oro e Misericordia a lanciare l'allarme LARAS che si augura che lo stesso zelo adottato da Genio Civile, ASP, NAS e ARPA nei confronti degli allevatori sia riscontrabile anche per la discarica di rifiuti solidi urbani di Contrada, Cava dei Modicani, situata a monte dei Pozzi d'Acqua B1 e B2 scavati a pochi metri dal fiume Erminio e da dove il comune di Ragusa prende una parte di approvvigionamento idrico per la città. L'ordinanza del comune è di tenersi fuori dalla fascia di rispetto dai bacini in imbriferi, in questo caso continua l'ARAS non vige. La si fa valere però, sottolinea l'associazione a carico di aziende che tradizionalmente allevano il loro bestiame in quel luogo. L'ARAS denuncia che un gruppo di allevamenti di Contrada Canarici è attualmente imprigliato nel groviglio tra competenze e incompetenze burocratiche e anche tra norme contraddittorie con la realtà del luogo. Gli allevatori sono in agitazione da quando NAS e ARPA hanno rilevato l'eccessiva concentrazione di deiezioni degli animali in azienda, quantità che potrebbero inquinare le falde idriche della zona. L'associazione regionale degli allevatori siciliani è allarmata, nulla togliendo alla gravità del problema, a cui senz'altro bisogna trovare una soluzione condivisa, sostiene il direttore regionale Carmelo Meli. Puntare l'attenzione semplicisticamente sugli allevamenti zootecnici per Meli non risolverà il problema, in quanto questi allevamenti hanno costituito da sempre la ricchezza del territorio ragusano, rendendo fertili e produttivi cui 20 cm di terra ricca di pietre e non hanno mai inquinato le centinaia di pozzi da cui si attinge acqua potabile. È stato presentato ufficialmente ieri a Ragusa presso l'ASP7 il progetto ministeriale sull'esercizio fisico come strumento di prevenzione ma anche di terapia. E al momento l'unico progetto autorizzato alla regione realizzato al Dipartimento della Prevenzione dalla Medicina dello Sport. Si tratta dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, unico appunto autorizzato da Palermo per creare un modello organizzativo finalizzata alla prescrizione dell'esercizio fisico, sia come prevenzione che come terapia in soggetti con particolari patologie croniche non trasmissibili, quali cardiovascolari, diabeto, obesitario e alcune patologie neoplastiche. Nello specifico, ha dichiarato in merito il commissario Angelo Aliguo, si tratta quasi di un vaccino contro queste patologie, mentre è stato anche sottolineato il fatto che i soggetti che partecipano al progetto usufruiscono di tutte le prestazioni ad esso legate, in maniera totalmente gratuita, ad eccezione dell'assicurazione, 10 euro, per la frequenza della palestra riabilitativa. Si tratta in particolare di un'iniziativa che ha preso il via lo scorso 15 febbraio, avrà la durata di sei mesi e si concluderà il 15 agosto. I risultati di questo studio saranno poi oggetto di valutazione in previsione di future scelte legislative sia nazionali che regionali, in merito alla pratica di un adeguato esercizio fisico, come del resto già evidenziati in spot televisivi promossi dal Ministero della Salute. Infine la divulgazione dell'attività sportiva verrà attuata dal Servizio di Medicina dello Sport di Ragusa, anche attraverso la diffusione di un'apposita brochure. Intanto in merito all'affidamento di strutture sportive a Comise e Pedalino, il Comiso Calcio, in una lettera aperta inviata al Commissario della provincia, esprime disappunto per come vengono effettuati questi affidamenti. Disappunto e disapprovazione per come vengono calpestati i diritti democratici della comunità. In una lettera aperta dai toni alquanto duri, il Presidente del Comiso, Salvatore Di Stefano, in merito all'affidamento delle strutture sportive nel territorio casmeneo, rileva come se è stato possibile che società che non hanno nulla a che vedere con lo sport, in questo caso il calcio, vengano premiate con l'affidamento appunto di impianti sportivi, mentre chi è presente sugli scenari sportivi da decenni non viene neanche preso in considerazione nel riconosciuto. Di Stefano in particolare fa riferimento al campetto di calcio di Via Volga Pedalino, affidato come noto ad un'associazione culturale che ha suscitato in passato non poche polemiche della questione. Infatti, si occuparono alcuni consiglieri con interrogazioni presentate in consiglio, dove si denunciò il mancato rispetto verso altre associazioni, quindi palesando un atteggiamento discriminatorio. Il Comiso Calcio, quindi, nella lettera aperta indirizzata al commissario Scarso, torna a chiedere l'arrevoca dell'affidamento alla struttura in questione e questo per titolare, scrive il Presidente Di Stefano, l'impegno e i sacrifici di che opera a servizio della comunità. Siamo al calcio, scalda i muscoli il vittorio, atteso nei prossimi due turni da due trasferte, prima la Tiger a Brolo e poi la Villafranca. Doppio salto mortale quello che attende il vittorio nei prossimi 180 minuti di campionato, prima l'anticipo di sabato a Brolo contro la Tiger, poi la trasferta a Villafranca. Nel primo caso, sabato, l'avversario ha soltanto ambizioni di play-off, mentre il Villafranca cerca punti per la salvezza. Due gare, come la si vuole girare, che sicuramente diranno una parola decisiva sui destini della formazione Ipparina. Intanto oggi la squadra è stata impegnata nella classica partitella del giovedì e tra i più propositivi c'è il giovane difensore di fascia, Leandro Di Rosa. Il mister gli piace che spingiamo i due terzini con il modulo che gioca e dobbiamo continuare così, giustamente. Tiger è forte, era forte, forse, non c'è il ricordo dell'andata. Sì, la Tiger è una bella squadra, però sinceramente dobbiamo andare là per vincere, fare la nostra partita, come abbiamo fatto ultimamente, non dobbiamo temerle assolutamente. Ho aspettato un favore d'Alta Ormina? Sinceramente ci dovevo pensare intanto a noi, a fare la nostra partita, a vincere, poi gli altri risultati vengono, non ci interessano gli altri risultati. Avevi recentemente qualche problema muscolare, tutto risolto? Sì, non era un problema muscolare, ma era un fastidio a linguine, però tutto risolto. Abbiamo il repilogo dei fatti in primo piano. Doppia missione romana per il sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano, il primo cittadino è stato al Ministero dell'Interno, insieme all'assessore di Trapani, sul tappeto le questioni dei precari e del dissesto dell'ente. Il futuro dei precari, innanzitutto il dissesto finanziario, sono state appunto le due tematiche trattate da Alfano durante i colloqui che ha avuto a Roma con i funzionari del Ministero. Mol profico, alla fine, il risultato della doppia missione. Ancora ecchi dal dopo elezioni politiche, per la neoselatrice del PD, Venerina Padua, il partito si è accontentato del pareggio e sul futuro ha parlato di Matteo Renzi come di una grande risorsa del PD. Felice del risultato personale, poi la Padua si è soffermato sullo stato del partito, un partito a detto in sofferenza che poteva stravincere e invece si è accontentato del pareggio. Ma c'è tanto ancora lavoro da fare. Intitolata all'ex assessore Pippo Mascolino, la nuova sede comunale di protezione civile a Vittoria, davanti a familiari, amici e colleghi, la scopertura ieri sera della targa che porta adesso il suo nome. Pippo Mascolino era scomparso per un malore improvviso lo scorso 2 dicembre dopo una partita a tennis, suscitando profonda commozione in città. Ad essi locali per i quali aveva lavorato tanto avranno il suo nome. La Regione Sicilia dice sì all'Istituto Alberghiero a Vittoria, una buona notizia che però fa da contraltare la pressoché sicura perdita dell'autonomia del liceo scientifico Carnizzaro e Classico per quanto riguarda l'Istituto Alberghiero intanto è il frutto della sinergia in corso da anni tra il Comune Ipparino e l'Istituto Professionale. Questo comporterà anche un risparmio per tante famiglie vittoriesi. Norme igieniche troppo restrittive Ragusa per gli operatori della zootecnia a lanciare allarme l'Aras che parla di imprenditori lasciati a poco destino e gli allaratori ragusani tornano dunque sul piede di guerra. L'Aras denuncia in queste ore la situazione di un gruppo di allevamenti incontrati a Canalicci impigliati in un groviglio di competenze e incompetenze burocratiche. Norme, dicono, contraddittorie con la realtà attuale. Per un momento ci possiamo fermare. Grazie per l'attenzione. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione.